Sono ripresi gli allenamenti dopo un periodo non troppo lungo di vacanza, comunque è stato abbastanza positivo perché tutti comunque dovevamo recuperare dalla lunga mole di lavoro che abbiamo fatto in questi ultimi mesi e oggi siamo rivisti anche subito in campo e comunque ho visto molta energia da parte di tutti, anche se eravamo un po' decimati e comunque c'è stata una bella energia e comunque siamo tutti ancora super in forma. Allora per quanto riguarda i due derby sono stati sicuramente molto intensi sia fisicamente che mentalmente perché sempre queste partite le sentiamo molto sia noi che loro e la prima è stata un po' sotto tono come livello di gioco perché era la prima partita dopo tanto tanto tempo, mentre la seconda c'è stato un po' più gioco, abbiamo mosso un po' più la palla e si è visto alla fine perché abbiamo portato a casa il risultato, quindi comunque penso che siamo andati tutti e due positivi. Comunque partire a settembre sarà un po' diverso rispetto agli anni scorsi perché avevamo già iniziato praticamente il campionato e comunque non dovrebbe cambiare nulla perché alla fine siamo super in forma e pronti per partire anche un po' più tardi, non cambierà molto. Come obiettivi personali penso di dover dimostrare ancora di più quest'anno di essere un giocatore importante per la squadra di avere un po' più costanza e soprattutto un po' più mentalità, non dico leader perché magari la mia età non è ancora in pieno sviluppo però comunque di essere consistente in tutte le partite in cui magari i allenatori mi metteranno in campo.